Nella live 154 sul canale YouTube di Parabellum, insieme a Emanuele Pietro Bono, si è parlato di guerra ibrida, cioè quel modo di combattere i conflitti che non comprende solo scontri armati tra due fazioni, ma anche tutta una serie di attività come per esempio le guerre commerciali o le sanzioni economiche e finanziarie o il sostegno a gruppi terroristici in determinati paesi o anche la diffusione di fake news o attacchi hacker a una determinata comunità e una determinata società in modo tale da destabilizzarla. Se volete comprendere meglio queste dinamiche e tutti i metodi che si utilizzano nei vari paesi per compiere attività di guerra ibrida nei confronti di avversari, vi invito a guardare la live 154 sul canale YouTube di Parabellum.